Benessere a scuola, sinergia tra l'ILT e l'Istituto Costanzo per dare il giusto peso alla salute. La salute, lo sappiamo tutti, è la cosa più importante. Preservarla rientra nella buona pratica di ognuno senza tralasciare una buona dose di prevenzione necessaria per vivere bene e in equilibrio. Indagini statistiche hanno rilevato che una buona alimentazione e l'attività fisica praticate in modo regolare possono evitare gravi problemi. In caso contrario, un'alimentazione sbilanciata, ricca di grassi e una vita sedentaria, portano il più delle volte l'obesità, sorrappeso, disturbi cardiovascolari e diverse patologie cronico-degenerative. Per cercare di dare una risposta a questo diffuso problema, il VII Istituto Comprensivo Costanzo, in collaborazione con l'ILT, ha organizzato incontri formativi e informativi nell'ottica di una cultura di prevenzione rivolti alle classi quinte della scuola primaria e alle prime classi di scuole secondarie di primo grado. Il dottor Salvatore Coriglione, nutrizionista della LILT, ha incontrato nei giorni 16, 22 e 23 febbraio i genitori delle classi prime per disseminare conoscenze su quanto sia importante salutare e assumere buon cibo a tavola per evitare tutti quei disturbi che possono compromettere in modo grave la salute della persona. Anche il dottor Mario Lazzaro, presidente della LILT, si è soffermato su quanto sia importante adottare buone pratiche di prevenzione e seguire una dieta opportuna a seconda del tipo di vita che conduce una persona. La scuola è sempre stata un ambiente idoneo per interventi di informazione, sensibilizzazione e promozione alla cultura del mangiare sano come stile di vita.